So che conoscete bene Lo, ma non sottovalutate cappello di paglia. Il ragazzo ha sviluppato l'ambizione del Re Conquistatore e potrebbe persino essere più pericoloso. Qui con me c'è una donna che sembra piuttosto nervosa oggi. Fra non molto vi raggiungerai insieme a Buffalo, loro vi aiuteranno. E terminata la missione voglio che torniate tutti a Dressrosa.